Bentornati a questo nuovo appuntamento con una finestra di Il nostro format che viene realizzato tra Roma e Perugia e che va in onda in contemporanea sia nel Lazio che in Umbria e che ogni settimana ci porta ad accendere i riflettori su argomenti di vario tipo, intervistando personaggi legati al mondo della politica così come della cultura, dello sport e non solo. Questa volta il nostro ospite è Gigi De Pal, a cui do il benvenuto. Ciao a tutti. Oltre ad essere giornalista e scrittore ed oltre ad aver ricoperto, lo ricordiamo, la carica di assessore tecnico alla famiglia, alla scuola e ai giovani di Roma Capitale durante la giunta alemanno, lei innanzitutto è il forum delle associazioni familiari. Potremmo innanzitutto spiegare a chi ci segue che cos'è esattamente il forum? Il forum nasce 25 anni fa per volontà delle grandi associazioni che si occupano di famiglia perché ci siamo resi conto, si resero conto, io diciamo 25 anni fa ero molto piccolo, che tutti i governi in questo paese si riempivano e si riempono ancora oggi purtroppo la bocca con la parola famiglia, ma poi di fatto nessuno fa nulla per la famiglia. E allora queste associazioni partirono in tre, oggi sono 582 che compongono il forum, hanno deciso di creare appunto un contenitore con un presidente che portasse avanti tutte le istanze di queste associazioni per quanto riguarda il tema della famiglia. Grosso modo oggi le associazioni che compongono il forum appunto sono 582 per un totale di circa 5 milioni di persone, anzi di famiglie, che vengono rappresentate non direttamente dal forum ma dalle associazioni. Il forum cerca di dare una voce e di insistere sul tema della famiglia interloquendo con le istituzioni a livello locale, a livello nazionale e a livello regionale. Sul sito ufficiale nella sezione perché nasciamo vengono spiegati bene due obiettivi del forum, che tra l'altro non credo siano gli unici. Uno è legato alla promozione e alla salvaguardia dei valori e dei diritti della famiglia, l'altro invece alla riconsegna alla famiglia stessa del diritto di cittadinanza affinché non venga intesa come soggetto debole da assistere. Potrebbe spiegarci meglio, magari soprattutto questo secondo punto? Si tratta di fare un salto di qualità, nel senso che per troppi anni noi abbiamo parlato e raccontato la famiglia come un problema e non come una risorsa. L'abbiamo raccontata come qualcosa di triste, di angosciante, di noioso, di asfittico, di ammuffito, come qualcosa di grigio, mentre invece è qualcosa di estremamente bello. Io stesso se mi sono sposato non l'ho fatto perché me l'hanno detto dal dottore in parrocchia o mio padre e mia madre, ma l'ho fatto perché era bello, perché sentivo con mia moglie che poteva essere il modo più bello in cui vivere, diciamo, la mia dimensione non solo privata ma anche pubblica. Ecco, questo è un po' un salto di qualità che noi vorremmo fare, cioè la famiglia come soggetto sociale, la famiglia come risorsa e non come problema. Perché, io dico sempre, la famiglia non è un problema, ma in Italia è la soluzione del problema. Ancora una domanda che è legata poi al sito dove personalmente sono andato a recuperare un po' di informazioni per capire bene cosa fosse il forum, quali fossero le attività. Si legge, appunto, sul portale di un'avvertenza famiglia sfociata in una petizione al Parlamento con circa un milione e mezzo di firme raccolte. Che cosa è opportuno sottolineare in tal senso rispetto a questo progetto? Lì è una campagna che il forum fece qualche anno fa relativamente a un concetto che purtroppo ancora esiste. Cioè noi dicevamo, e diciamo ancora, che esiste in Italia una discriminazione fiscale. Cioè oggi come oggi le famiglie non pagano le tasse, come dice l'articolo 53 della Costituzione italiana, secondo la loro capacità contributiva, ma le tasse vengono pagate in base al reddito, senza tener conto della composizione familiare. Quindi capita che una famiglia con 40.000 euro di reddito, con quattro figli, paga le stesse identiche tasse di una famiglia con 40.000 euro. Gli stessi 40.000 euro, ma magari senza figli. Questo è un problema perché la famiglia con 40.000 euro, con quattro figli, svolge un ruolo sociale perché sta creando cittadini di domani che sono quelli che pagheranno poi la pensione anche a quella famiglia che oggi invece non ha avuto modo, non ha voluto, quello che vuole, mettere al mondo dei figli. Allora noi diciamo che in quella raccolta si diceva appunto che c'è una discriminazione fiscale che andrebbe tolta in Italia, perché è l'unico paese in Italia dove non si tiene conto della composizione familiare ma si tassa il reddito. E questo è un problema perché le famiglie stanno sempre più in difficoltà. Dal momento successivo al raccoglimento di tutte queste firme che cosa siete riusciti in grado, cosa è successo? Immaginiamo che questa cosa è stata fatta qualche anno fa, se non sbaglio col presidente Belletti, presidente precedente alla mia elezione e diciamo che abbiamo avuto come sempre bellissime pacche sulle spalle, nel senso che in Italia il vero problema è che la famiglia regge che è una cosa molto buona ma da un'altra parte sta a diseducato questo paese, è un po' come il turismo. Noi abitiamo nel paese più bello del mondo, i turisti tanto vengono e quindi non abbiamo mai riconvertito il nostro paese veramente a una dimensione più turistica, capace di accogliere altri mercati, capace veramente di trasformare il turismo in una realtà che incide anche al punto di vista economico molto di più quanto potrebbe. Perché? Perché i turisti vengono. Con la famiglia abbiamo fatto lo stesso ragionamento, tanto la famiglia regge, tanto la famiglia regge. Di fatto è così. Il problema è che con la natalità a zero e con ormai l'aver trasformato il matrimonio quasi in una cosa per stupiti perché oggi come oggi conviene non sposarsi per avere tutta una serie di diritti di cui teoricamente dovresti avere abbiamo trasformato questo paese in una realtà dove appunto la famiglia prossimo anno, i nodi però sono arrivati al pettine. Quindi quella vedizione ha prodotto che cosa? Ha prodotto un impegno di massimo, ma poi nella concretezza non si è avuto nulla. Un tema che al momento invece state seguendo con particolare attenzione è quello che è legato all'assegno unico familiare. Che cosa può dirci di più al riguardo? Abbiamo fatto un salto di qualità. Dopo la raccolta firme abbiamo presentato una proposta che si chiama Fattore Famiglia. Fattore Famiglia era una specie di no tax area in base al numero dei figli. Abbiamo visto però che cosa succedeva? Che le famiglie non percepivano questa misura come qualcosa di concreto per loro, capace di incidere nelle loro vite. Allora abbiamo insistito sul tema della natalità. Abbiamo mostrato che la natalità oggi è un tema non negoziabile, è un principio non negoziabile. Perché? Perché tra un po' sta crollando le pensioni, sta crollando il welfare e crollerà anche la sanità, che oggi è gratuita e domani sarà a pagamento. Allora abbiamo detto come possiamo coinvolgere le famiglie e fargli comprendere che qualcosa è necessario farsi? E come la politica può comprendere questo? Allora abbiamo ideato l'assegno unico. Abbiamo visto che ci sono tutta una serie di manovre che già vengono fatte per le famiglie, le dico per chiarezza, 6 miliardi e mezzo di assegni familiari, 2 miliardi di vari bonus, circa 12 miliardi di detrazioni già esistenti, più i 10 miliardi del bonus di 80 euro che viene fatto ai tempi del governo Renzi, uguale 30 miliardi, che già vengono dati in un modo e in un altro alle famiglie, ma che vengono dati in maniera sfilacciata. Noi abbiamo detto 30 miliardi diviso 10 milioni di bambini da 0 ai 18 anni, uguale 250 euro al mese per ogni bambino. Allora questa è la nostra proposta, invece di perdere le risorse in mille rivoli andiamo a dare 250 euro al mese per ogni figlio dai 0 ai 18 anni, senza aggiungere addirittura risorse aggiuntive rispetto a quelle che già ci sono. Allora, il sottoscritto ha parlato con Salvini, Di Maio, Boschi, Carfagna, Meloni, tutto l'arco costituzionale e tutti si sono detti favorevoli a questa proposta. Il problema è che poi non si riesce mai a mettere in moto perché ci vuole lavoro, ci vogliono simulazioni, ci vogliono nottate a lavorare gomito a gomito, ci vogliono file Excel, ci vuole una riforma fiscale seria che vada oltre i bonus. E questo, un po' la politica, un po' la burocrazia, tendono a rinviarlo al prossimo anno sempre. Tutti questi incontri con queste figure istituzionali più o meno a quando risalgono? Negli ultimi 6-7 mesi. Nel concreto, che benefici potrebbe portare l'introduzione dell'assegnone, veramente nel modo più concreto possibile ad ogni famiglia? È facilissimo. Mettere 250 euro in tasca ad ogni famiglia, per ogni figlio, uguale fa ripartire l'economia, che è uno dei grandi problemi del nostro paese. Il nostro paese è un paese che ha, purtroppo, il 60%, il 58,7% per precisione, della spesa sociale che va in pensioni. Dall'altra parte c'è il 6,2% che va per famiglie e figli. Allora, stiamo creando, che cosa? Una conflittualità sociale pericolosa. Mentre invece sono convinto che gli anziani, i nostri genitori, i nostri nonni, sono contentissimi di mettere nelle tasche delle famiglie con figli, dei loro nipoti, delle risorse. Perché tanti in un modo o in un altro le tirano fuori lo stesso. Tanto vale che il governo invece dica, facendo un passaggio non solo economico ma anche culturale, io ho fiducia in te. Tu stai mettendo al mondo un figlio e io credo che questa cosa vada seguita, vada aiutata e vada incentivata. Mentre invece oggi cosa avviene? Che la seconda causa di povertà in Italia è la nascita di un figlio. La prima è la perdita del lavoro del capo familiare, la seconda è la nascita di un figlio. In un paese a nascita zero questa è un'aberrazione. Non possiamo tollerarlo, non possiamo accettarlo. Anche perché, come dicevo prima, la nascita, le nascite che stanno crollando, stanno facendo crollare tutto il resto, tutto il sistema paese. Tra qualche anno noi molto probabilmente avremo una situazione nella quale aumenteranno la dismisura i non autosufficienti e l'Italia sarà un paese molto 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 anziano. E questo creerà non una gioia perché mia nonna dura e campa di più e siamo contenti perché è una gioia che aumenta l'età. Diventerà un problema perché se non c'è un ricambio, se non c'è chi lavora per sostenere quel welfare, molto probabilmente gli anziani non saranno una risorsa ma saranno un problema. E questo creerà e aprirà tutta una serie di scenari futuri veramente preoccupanti. Alcuni abbiamo già anticipati. Ecco, tra tutto ciò che si prospetta, in tal senso quale potrebbe essere il danno peggiore? Il fatto che la sanità divenga a pagamento? La sanità a pagamento è qualcosa di cui oggi non ce ne rendiamo conto e pensiamo sia lontana, ma non è così lontana. Abbiamo fatto, mi ricordo che è stato festeggiato che negli Stati Uniti era passato il sistema, non era più a pagamento, poi non si sa se è stato fatto del tutto, però potrebbe succedere che uno si rompe un dito, va in ospedale e deve dire fuori la carta di credito per farsi mettere il gesso. Questo non è uno scenario apocalittico, è uno scenario molto più vicino di quanto immaginiamo. Allora, un anno, perdere un anno vuol dire perdere tanto, per questo noi insistiamo dicendo va fatto subito. La politica è d'accordo, facciamola subito. Io sono presidente del forum da quattro anni, in quattro anni quattro governi e mezzo. Allora, non si può andare avanti, la durata dei governi determina tante volte anche l'impossibilità di programmare e di fare riforme serie. Con questo nuovo governo pensate che ci sia più continuità, sia in linea generale che per quanto riguarda i vostri obiettivi? Noi chi c'è c'è. Facevo questo discorso lo scorso anno con il primo governo Conte, oggi con il secondo governo Conte dico le stesse cose, non interessa chi c'è, non interessa che ci siano. Noi siamo di parte, dalla parte delle famiglie. Non ci interessano gli interlocutori, ci interessa che gli interlocutori facciano qualcosa, perché le famiglie non ce la fanno più. Noi non vogliamo rassegnarci a vedere i nostri figli su Skype, perché qui in Italia non c'è la possibilità di realizzare i loro sogni. Non vogliamo rassegnarci a vedere una donna che è costretta a nascondere il pancione quando sta sul posto di lavoro perché rischia licenziamento. Non vogliamo rassegnarci a dover scegliere per i nostri figli il plantare per un figlio piuttosto che l'apparicchio per i denti per l'altro. Questi sono i problemi famiglie italiane. Non chiedono grandi, chiedono di vivere dignitosamente e pensiamo che l'assegno unico possa essere una risposta concreta con lo scorso governo, con questo governo e con i prossimi governi. Chi prima lo fa, fa un bel regalo al paese, fa un bel regalo alle famiglie che sono il motore di questo paese. Rispetto sempre all'assegno unico, a questi 250 euro mensili, quanto una somma del genere potrebbe incentivare una famiglia, una coppia, che magari ancora non ha figli, a mettere su famiglia? Quanto? Concretamente, secondo voi, anche magari rispetto a delle stime che avete fatto? Le stime non si possono fare per un motivo molto semplice, perché la demografia è inesorabile e quindi sono comunque diminuite le donne in età fertile. Quindi per rimettere in moto un meccanismo dovranno passare comunque 5, 6, 7, 10 anni. Posto questo, noi siamo convinti però che oggi una famiglia che vuole un figlio e viene totalmente abbandonata a se stessa, ha comunque più difficoltà anche culturali e psicologiche a fare questo salto, questo passo, perché un figlio ti cambia la vita. Allora, un conto è sapere che c'è dietro qualcuno che dice, io ho a cuore quello che tu stai facendo, ti seguo, ti sto avvicino e ti sostengo fino a quando hai 18 anni, anche con un assegno perché penso sia importante. Questo fa cultura. Uno pensa che l'assegno sia solo una questione economica e uno dice, ma i figli non è che non nascono più per una questione economica, non nascono per una questione culturale. Quanto l'economia influisce sulla cultura? Tantissimo. Basti vedere tutto il discorso relativo all'aspetto ambientale, a Greta, cioè il fenomeno di Greta non nasce per una bambina, ma nasce perché le aziende si stanno riconvertendo sempre di più a energie alternative e questo pompa su una questione politica e culturale. L'economia influisce sulla cultura, anche quindi 250 euro nelle tasche delle famiglie italiane e dei giovani italiani che vogliono mettere un figlio sicuramente darebbe comunque la certezza di non essere soli, cosa che oggi invece avviene. Oltre all'assegno unico familiare ci sono delle altre battaglie che magari al momento sono state congelate, che però magari il battaglio 20 portate avanti da voi, che potrebbero tornare a breve all'ordine del giorno. C'è qualcosa su cui potreste tornare a puntare parallelamente sempre all'assegno unico? Noi vogliamo l'assegno unico, punto. Poi tutto quello che viene a corollario, si parla tanto di asilinido, benvengano, congetti parentali, benvengano, ma il centro è l'assegno unico, perché io dico spesso, in una famiglia tu prima di tutto ti metti la pasta asciutta in tavola, non puoi pensare di risolvere il problema con i salatini. Allora l'assegno unico è la pasta asciutta, il resto sono salatini anche perché riguardano una percentuale molto esigua. L'assegno unico riguarda 10 milioni di famiglie. Il resto, congetti parentali, benvengano, lo ripeto, non sarò mai a dire no, facciamo una misura in meno, facciamo sempre uno in più. Asilinido riguardano percentuali e numeri molto minori. E aggiungo anche, benvengano pure gli asilinido, ma se non nascono i bambini, tra un po' avremo posti gratuiti senza figli. Cioè, è vero che a Reggio Calabria e in alcune zone del sud Italia non ci sono proprio gli asili, ed è giusto lì investire e mettere risorse per gli asili, ma ci sono anche zone d'Italia dove ci sono gli asili, ci sono i posti anche gratuiti, ma non ci sono i bambini. Allora, facciamo un ragionamento molto serio, non andiamo a inseguire le mode, asilo nido, congetto parentale, congetto parentale, benvenga, ci mancherebbe altro. Ma quanti giovani papà oggi possono dire di avere un contratto a tempo indeterminato e quindi di poter soffrire un congetto parentale? Perché se poi facciamo delle astrazioni, se la maggior parte dei papà ha un contratto come è atipico, congetto parentale, molte risorse rimangono lì perché non vengono utilizzate. Allora, non andiamo dietro a mode, facciamo riforme serie e strutturali, mettiamo risorse nelle tasche delle famiglie italiane, poi dopo vediamo quanto si può costruire intorno a questa riforma seria tutto il resto. Lo scorso 17 di ottobre a Piazza Montecitorio, qui a Roma, è stato organizzato un flash mob per chiedere alle istituzioni maggiore attenzione riguardo le famiglie. Di grande impatto sicuramente l'immagine di un'area piena di seggiolini e passeggini vuoti, con sopra anche apposti diversi cartelli. Pensa che abbia sortito qualche effetto un'iniziativa del genere? Non lo so, noi vogliamo tenere alta l'attenzione, vogliamo giocarci tutte le partite in questo senso, non vogliamo tornare a casa la sera e dire potevamo fare e non abbiamo fatto, invece abbiamo... e quindi volevamo lanciare un allarme, volevamo far capire alle istituzioni ma anche al mondo dei media, al mondo delle imprese, al mondo dei sindacati, a tutti, perché il tema di talità non riguarda solamente la politica, riguarda tutto il sistema di paese, che senza figli non c'è futuro e quindi abbiamo voluto utilizzare l'elemento della fatica maggiore di una famiglia, il seggiolone piuttosto che il passeggino e far vedere quanto può essere triste un seggiolone o un passeggino vuoto. Quella piazza quel giorno c'era un silenzio irreale, un silenzio eloquente, un silenzio rumoroso che faceva capire che è veramente un peccato il fatto che in Italia si vorrebbero fare figli ma non si mette i giovani nelle condizioni di farli, questo è veramente un peccato. Lei tra l'altro non è una nuova iniziativa di questo tipo perché se non vado errato, già nel 2014 andò in scena, io sto con i passeggini, in quel caso venne riempita di passeggini piazza del Campidoglio e sempre in quel caso si chiedeva l'aumento delle tariffe degli asilini, riusciste al tempo a raggiungere quell'obiettivo? Riuscimmo al tempo su un obiettivo specifico, sicuramente più semplice perché comunque era una questione semplicemente comunale, riuscimmo attraverso un ricorso al Tar a coinvolgere ricordo 1037 passeggini vuoti, tutti in piazza del Campidoglio con mamma e papà che lì hanno iniziato a comprendere quanto è importante anche per le famiglie far sentire la loro voce, perché oggi come oggi succede questo, c'è un problema? Dove tagliamo? Dove iniziamo a trovare risorse? Sulle famiglie. Ecco, questo non può accadere. All'epoca riuscimmo a ottenere per un altro anno l'esenzione dalle tariffe degli asilini per le famiglie con tre figli e riuscimmo anche a ottenere che non ci fossero quell'anno gli aumenti. Purtroppo poi, se andate avanti, gli aumenti negli anni successivi sono arrivati. Questo fa capire cosa? La poca lungimiranza della politica. Cioè in un paese a nascita zero, in una città come quella di Roma che è tutt'altro che a dimensione familiare, io avrei a cuore i bambini, avrei a cuore chi si occupa di educare i bambini, avrei a cuore il far ripartire la natalità. Domanda. Aumentare le tariffe degli asili nivi in un paese a nascita zero, quando poi oggi lo stesso governo, magari dello stesso colore, vuole fare qualcosa di diametralmente opposto, è lungimirante o stiamo avviando una situazione schizofrenica? Allora, quello che io dico è, cerchiamo di utilizzare l'occhialetto di leggere tutte le situazioni con la dinamica della famiglia, perché anche la manovra di cui si sta parlando, io voglio bene a tutti, ma il bene comune non è la somma degli interessi particolari. Noi invece oggi pensiamo che il bene dei pensionati, quota 100, più il bene dei disoccupati, reddito cittadinanza, più il bene dei sindacati, cuneo fiscale, più il bene delle imprese, di vari sgravi, uguale bene comune. No. Il bene comune non è la somma di tutte queste cose, è una visione lunga, di lungo periodo, su che cosa necessita il paese. il bene comune è un salto di qualità, il bene comune moltiplica, non somma, le situazioni. Allora che succede? Succede che oggi per non scontentare nessuno dai due miliardi di qua, due miliardi di là, ma non cambia nulla in questo paese, non cambia nulla. E la gente è stanca di questo non cambiare nulla. E mi permetto di poter dire che governo Renzi, governo Gentiloni, governo Conte con Salvini di Maio, attuale governo Conte con Zingaretti, Renzi di Maio, ci sono stati tutti e nessuno ha avuto la forza politica di dire meglio scontentare una categoria per avere una visione d'insieme piuttosto che continuare in questo modo. I diritti acquisiti hanno un senso se producono frutti nel paese, non hanno un senso in sé, perché altrimenti è finita, altrimenti basta che c'è un diritto acquisito di una singola persona che può essere statuato anche, come spesso capita, per fini meramente elettorali, e il paese crolla. Lei è a capo del Forum delle Famiglie dal 2015, mentre nel 2009 venne eletto il Presidente del Forum del Lazio. Di che cosa va maggiormente fiero rispetto al suo operato di questi ultimi 4 anni? Da quando è a capo del Forum su scala nazionale? Essere riusciti a porre al centro dell'attenzione politica, tant'è che ne ha parlato il Presidente Conte nella sua relazione introduttiva e programmatica, tant'è che su tutti i giornali se ne sta parlando, anche in questi momenti si sta parlando di questo benedetto assegno unico, cioè essere riusciti a trasformare la nostra proposta in una proposta che non riguarda solo il Forum, ma è diventata la proposta del Paese, e soprattutto aver attirato nuovamente l'attenzione mediatica sul tema natalità. Ecco, queste per me sono grandi conquiste, faticosissime, perché c'è un lavoro dietro le quinte di 4 anni reali, ma sono grandi conquiste perché sono convinto che chi lo fa lo fa, ma prima o poi l'assegno unico si farà, per un motivo semplice, non c'è un motivo valido per non farlo, è perché le risorse già ci sono. Non farlo vuol dire voler andare proprio contro questo Paese e diventare i curatori fallimentari dell'Italia. Non c'è il rischio che con il passare del tempo questa cosa vada sempre più a messa sempre più nei piani più bassi di quelli che sono, possono essere gli obiettivi di chi ci amministra? Sinceramente no, perché il tema ormai è centrale. La fatica è stata tirare fuori questo tema e far capire che la natalità è un'emergenza oggettiva. Ora però la difficoltà sarà trovare le soluzioni concrete. Non è caso, molti tirano fuori come soluzione alla natalità, come è stato detto, l'asilo nido, piuttosto che altre situazioni che sono semplicemente un corollario. La fatica adesso sarà quella di mantenere alta l'attenzione sull'assegno unico, ma confido nelle famiglie che ci seguono, nelle famiglie delle associazioni, le famiglie semplici, perché sanno benissimo che cosa può voler dire avere delle risorse in tasca per comprare una macchina più grande, per portare i figli una volta al mese a mangiare la pizza, per scegliere uno sport che non è quello che costa di meno, ma quello che finalmente ti piace. Ecco, le famiglie italiane chiedono questo. E io credo che meritino risposte concrete in tal senso. Abbiamo ancora qualche minuto a disposizione e non ci siamo ancora soffermati su questo tema dall'inizio della trasmissione, però abbiamo parlato tanto di famiglia e mi farebbe piacere parlare un po' con lei della sua, che è decisamente numerosa, perché lei ha ben cinque ragazzi. Cinque bambini, perché ancora l'uno è il ragazzo, quattordici anni. Ecco, io sono come la stragrande maggioranza delle famiglie italiane, non che hanno cinque figli, ma che hanno fatto un figlio non perché ci fosse un vantaggio economico come avviene magari in Francia, in Germania, ma l'ho fatto perché era bello. Io credo che questa bellezza è il centro di tutto. Questa è la bellezza che ci spinge a fare un figlio, che ci spinge a svegliarci di notte, a cullare un bambino, anche se apparentemente non ha senso questo, perché hai le occhiaie, diventi vecchio prima, non lo so, però ti dà tanto, tanto, tanto in altre forme. Ecco, la maggior parte delle famiglie italiane vorrebbe fare un figlio perché è bello, mentre invece oggi deve rinunciare a fare questo figlio perché è difficile. Allora, io ho scoperto che è più bello che è difficile, ok, ma c'è tanta gente che, giustamente dico io, fatica a fare questa scelta e ha paura di farla. e noi non possiamo abbassare il livello dei sogni delle persone perché in questo paese, questo paese non è poco fertile, questo paese è stato coltivato male, che è diverso, perché il paese è fertile, perché il desidero delle donne di fare figli è più di due, mentre invece è 1,32. Quando il professor Rosina mostra i suoi dati e mostra che il 94% dei giovani vorrebbe una famiglia e dei figli e poi non è possibile farli, questa è una sconfitta di tutti noi. Ancora un altro paio di domande prima di salutarci. L'ultimo dei cinque arrivato è il vostro bellissimo Giorgio Maria che sappiamo perché è stato dichiarato pubblicamente da sua moglie essere affetto dalla sindrome di Down. Com'è stato questo primo anno e mezzo vissuto insieme? Ti correggo, non è una malattia, quindi non è affetto dalla sindrome di Down, ma ha la sindrome di Down. Ma la correzione che, no ma anch'io sbaglio, però mi hanno corretto e quindi fa cultura anche questo ed è importante dirlo. È stata una scoperta nuova, è stato un riniziare da capo, è stato un, forse uno dei regali più belli che abbiamo mai ricevuto ed è forte dire che un bimbo con la sindrome di Down e quindi un bimbo che viverà situazioni sicuramente difficili perché adesso ha due anni ancora camminare se lo sogna, ha tre denti, ha tutta una lentezza sua è comunque qualcosa che mi ha migliorato la vita, non me l'ha peggiorata. E dico questa cosa sapendo di poterla dire anche a nome di mia moglie e di poterla dire soprattutto a nome dei miei figli, perché i miei figli oggi vivono una vita grazie a Giorgio Maria più sorridente. Ieri stavamo a tavola e lui ce l'avevano i nonni, abbiamo iniziato a mangiare e mancava qualcosa, mancava la sua gioia, mancava quella presenza di cui non potremmo fare a meno e che se mi dicessero ma tu adesso, col seno di poi, metteresti la firma per riaverlo? Ditemi dove si firma, mettere la firma non ho nessun problema. Tale e quale. Non so se ho avuto modo di vedere, è uscito nelle sale cinematografiche del mese di settembre il mio fratello rincorri di Dinosauri, un film bellissimo, noi ne abbiamo anche parlato per il nostro telegiornale e anche lì la storia sembra anche possibile una famiglia già numerosa dove arriva, c'è un nuovo bimbo che anche lì è a Sinome di Down. Che idea si è fatto di quel film o meglio, come crede che sia stato affrontato il tema? Noi non abbiamo visto il film perché per andare in 5 al cinema un altro dei problemi, no, non è un casino, sono costi, no? No, immagina in 7 al cinema quanto può costare? Abbiamo letto il libro, l'abbiamo insieme con i bambini, è questo, emerge che cosa? Che qualcosa che ti scompagina una stagnazione non è detto che sia per forza negativa. In un paese come quello nostro dove paradossalmente devi quasi chiedere scusa di mettere al mondo un disabile perché ha un costo sociale, io dico a tutti quanti fatevi un amico con la sindrome di Down perché la vostra vita aumenta e migliora in qualità. Per carità, sono assillanti, hanno le loro cose, però mettono il sorriso nel cuore. Noi con Giorgio siamo felici anche solo guardandolo. Perché? Perché ci ricorda che c'è una bellezza che non comprendiamo pienamente e lui ce la mostra ogni giorno. Ultimissima domanda perché siamo in chiusura lei venne qui un anno e mezzo fa circa per presentarci il libro realizzato insieme a sua moglie Ci vediamo a casa e vi ha regalato tante soddisfazioni questo volume e ci sono state decine e decine di presentazioni in tutta Italia numerose stampe ce lo diceva prima di andare in onda. Siete riusciti a spiegarvi il perché del successo di un progetto editoriale simile? Perché bisogna raccontare la famiglia così com'è e la gente vuole leggere non i pistolotti di persone che ti spiegano dal punto di vista tecnico scientifico come si dovrebbe fare famiglia né di maestri che ti dicono adesso ti faccio vedere io la famiglia perfetta io e mia moglie abbiamo cercato di raccontare la nostra esperienza senza metterci su un piedistallo ma raccontando e mettendoci in gioco e la gente a mio modo di vedere apprezza quando uno si mette non a nudo ma si mette in gioco quando uno racconta le difficoltà quotidiane perché la famiglia è complicata è complicata è complicata è complicata e per questo molto 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 bella il fatto che sia complicata la rende bella le cose più belle sono quelle più faticose ecco questo è da dirlo da raccontarlo anche per i giovani che si vogliono sposare perché perché è complicato ma è più bello che è complicato e deve passare questo messaggio mentre invece noi tante volte raccontiamo solo che è complicato e la bellezza la tralasciamo e non la raccontiamo siamo veramente in chiusura noi ringraziamo nuovamente Giti De Palo nostro ospite grazie a voi grazie ricordiamo presidente del forum delle associazioni familiari e grazie anche a voi ovviamente per averci seguito noi torniamo la prossima settimana stessa ora stesso canale arrivederci grazie a tutti grazie a tutti